Ursula von der Leyen mostra come lavarsi le mani risparmiando energia. Mario Draghi compra gas da aziende russe. La pasta cotta a fuoco spento è indigeribile. Ma veramente? Ciao, io sono Camilla Vagnozzi e questo è Veramente, il podcast di Facta News. La guerra tra Russia e Ucraina continua, anche se la nostra quotidianità viene scandita da ritmi decisamente lontani e diversi da quelli del conflitto oggi ancora in corso, non dobbiamo dimenticarci che nei territori ucraini si continua a combattere con vittime e distruzione. Sono ormai passati mesi da quando lo scorso 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'invasione dei territori ucraini e quando, poco dopo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato le prime dichiarazioni, diventando, a tutti gli effetti, uno tra gli uomini più conosciuti e riconoscibili al mondo. Tra le conseguenze dell'invasione russa in Ucraina rientra anche il vertiginoso aumento dei prezzi dell'energia, che coinvolge direttamente molti paesi, tra cui anche il nostro, l'Italia. Quella che, a primo impatto, poteva sembrare una questione soltanto economica, si è in realtà ben presto trasformata in quella che viene oggi considerata dagli esperti una vera e propria crisi energetica multivivello, che coinvolge la società nel suo insieme, cambiando anche gli equilibri geopolitici. Molti stati dipendevano e dipendono ancora oggi da gas e petrolio russi, che sono però diventati delle vere e proprie armi nelle mani del Cremlino. D'altra parte, quei paesi che hanno adottato delle sanzioni contro la Russia per punire le azioni, si sono trovati costretti a cercare fornitori in Medio Oriente o in Asia, aprendo di fatto una nuova partita geoeconomica. Zoomando questa situazione e avvicinandoci alla nostra quotidianità, che cosa è successo? È successo che cittadini, aziende e anche le stesse istituzioni stanno facendo i conti con il crescente costo dell'elettricità e con la conseguente inflazione che ha raggiunto massimi storici mai raggiunti negli ultimi decenni. Guardando poi ai paesi in via di sviluppo, questa situazione rischia di generare, come ricostruito tra gli altri anche dai colleghi dell'ISPI, una vera e propria crisi alimentare. Non solo, tutta questa situazione rischia poi anche di rallentare i processi di transizione energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili, portando di nuovo il nostro pianeta a soffrire e a pagare il caro prezzo delle scelte dell'umanità. Diciamoci la verità, se noi pensiamo di poter a livello nazionale continuare a compensare il costo di bollette che continuano a salire per regalare soldi alla speculazione, facciamo un errore. I paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sull'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprende un tetto al prezzo del petrolio esportato da Mosca. Per arginare l'aumento di luce e gas che rischia di strangolare famiglia e imprese in tutto il continente, una delle strade che si vuole percorrere in Europa è quella di dirottare contro la crisi energetica una porzione dei fondi comunitari destinati ad altre voci di spesa. A inizio settembre il governo italiano aveva pubblicato il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, prendendo in esame il periodo agosto 2022 e marzo 2023. Stando a questo piano è prevista nei prossimi mesi una riduzione volontaria dei consumi del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di una contrazione dei consumi più che doppia rispetto a quella fatta registrare in Italia nel corso dell'ultimo trimestre, quando sia i cittadini che le imprese hanno ridotto i propri consumi a fronte degli alti costi del gas. Questo contenimento dei consumi è necessario perché? Perché soprattutto in vista dell'autunno e dell'inverno, così da scongiurare il bisogno di razionamenti di energia. Ora, inevitabilmente la crisi energetica e il rincaro delle bollette sono tra gli argomenti più urgenti per il nuovo governo che dovrà risolvere una situazione non semplice e tra l'altro strettamente dipendente dallo sviluppo degli eventi internazionali. Da una parte la guerra e le scelte del Cremlino, dall'altra però anche le politiche europee che intendono regolare una corretta gestione delle forniture. La crisi energetica sembra poi essere un problema anche per fact checker e debunker e non solo per le loro tasche, ma anche per la quantità dell'informazione e della disinformazione che sta circolando online proprio su questo argomento. Già in diversa occasione, infatti, noi della redazione di Facta News ci siamo trovati costretti a smentire false notizie che, in qualche modo, hanno a che fare con la crisi energetica, a testimonianza di come nemmeno il prezzo dell'energia, o più in generale la crisi energetica, siano immuni dalle false notizie. Vi faccio qualche esempio. Iniziamo dal primo. Negli ultimi giorni, magari l'avrete visto anche voi, circola molto sui social network un filmato che mostra la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, lavarsi le mani, canticchiando un motivetto. La donna apre l'acqua per bagnarsi le mani, la chiude poco dopo e insapona le mani per poi riaprire di nuovo l'acqua e sciacquarle. Alla fine del filmato, von der Leyen mostra alla telecamera le mani pulite. Stando ad alcuni utenti, il video sarebbe stato girato per sensibilizzare i cittadini europei proprio sul risparmio dell'acqua e dell'energia, in riferimento alla crisi energetica, tanto da essere accompagnato da un testo che recita non sprecare l'acqua, se paghi di più è colpa tua e di Putin. Dunque, in questo caso il filmato è reale, ma non mostra von der Leyen che spiega come risparmiare acqua mentre si lavano le mani e non è neppure stato girato nel 2022, non ha alcun legame con l'attuale crisi energetica né con l'invasione russa dell'Ucraina. In realtà il video è stato originariamente pubblicato il 22 marzo 2020 dal profilo Twitter della Presidente della Commissione Europea, pochi giorni dopo la dichiarazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità della pandemia da nuovo coronavirus. Nel filmato von der Leyen mostrava quali erano le indicazioni dell'OMS per un corretto lavaggio delle mani, utile come poi sappiamo bene anche noi a ridurre la diffusione della Covid-19. Della Russia poi si è parlato però in almeno alcun altro caso di disinformazione che ha coinvolto da vicino un altro politico, il Presidente del Consiglio uscente Mario Draghi. Su Twitter è stata pubblicata una foto di Draghi insieme al primo ministro algerino accompagnata da questa didascalia. Gas, lo compriamo dall'Algeria e finanziamo Putin. L'autogol di Draghi si chiama Sonatrack. Sonatrack, la società algerina che fornisce parte del gas che serve all'Italia, sarebbe, secondo gli utenti che hanno condiviso questa notizia, ha il 60% di proprietà di Gazprom, una società russa. L'accusa quindi in soldoni è quella di imporre da un lato delle sanzioni alla Russia, dall'altro però di continuare ad acquistarne il gas, finanziando quindi le casse del Cremlino. Anche in questo caso però le cose non stanno così. La Sonatrack è totalmente di proprietà algerina, così come tutte le società ad essa collegate. Non è quindi vero che appartiene per il 60% alla società Gazprom, che è una multinazionale attiva nel settore energetico e minerario controllato dal governo russo. Gazprom rientra tra i partner di Sonatrack. Infatti, leggendo il rapporto annuale pubblicato nel 2021, emerge come Sonatrack abbia dichiarato di avere in corso 31 attività di associazione con altre società. E nella lista dei partenariati rientra anche Gazprom insieme ad altre, basti pensare che c'è anche l'italiana Eni. La disinformazione poi a tema energia è arrivata addirittura nelle nostre cucine. Gli italiani pensano di sapere tutto sulla cottura della pasta, ma non è così e ora ve lo dimostro. Qui abbiamo dell'acqua che sta bollendo. Che ci vuole per cucinare la pasta? Un po' di sale, qui c'è la pasta, la butto dentro, do una mescolatina, copro e spengo il fuoco. Esattamente. Parmiare è la parola d'ordine e come sempre ci vengono in aiuto le nostre nonne. E sono state proprio loro le prime a sperimentare la cottura della pasta senza gas. Un sistema semplice che torna di grande attualità in un periodo critico di caro bollette. Ipotizziamo un 10 minuti di cottura, noi a due minuti spegniamo e l'importante è che andiamo a mettere un coperchio. E ad avallare l'efficacia del metodo scende in campo anche il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi che sul proprio profilo Facebook ha condiviso la ricetta. Avrete sicuramente sentito parlare della possibilità di cuocere un buon piatto di pasta portando l'acqua a ebollizione per poi ridurre al minimo o spegnere del tutto il gas. Non so se avete provato ma se lo fate scoprirete che è vero. Per una serie di processi fisici la pasta può tranquillamente essere cotta in questo modo risultando comunque buona e anche digeribile. Perché è proprio qui che voglio arrivare. Secondo alcuni questa modalità di cottura renderebbe l'alimento indigeribile e quindi poco piacevole se non dannoso per il nostro stomaco e intestino. Non è una notizia vera. Si può discutere il fatto che il piatto di pasta risulti più gommoso o meno gommoso se cotto col fuoco spento ma è comunque un piatto digeribile e quindi mangiabile. Continuando poi a parlare di fornelli, nelle ultime settimane è tornata a circolare una bufala dura a morire. Secondo alcuni la fiamma color arancione dei fornelli da cucina indicherebbe che il gas è stato in qualche modo mischiato con l'ossigeno per abbassare i costi. Mi spiego meglio. Secondo questa teoria, se la fiamma è azzurra andrebbe tutto bene, il gas sarebbe stato miscelato correttamente e la temperatura della fiamma si aggirerebbe intorno ai 1500-1700 gradi Celsius. Se le fiamme invece sono di colore arancione tendenti al rosso, si tratterebbe di gas mischiato ad una dose maggiore di ossigeno con il risultato di una temperatura minore della fiamma intorno ai 900-1200 gradi Celsius e quindi con un maggior consumo di gas per riscaldare le stesse pietanze. Di nuovo però le cose non stanno così. Infatti quella del gas miscelato con l'ossigeno per abbassare i costi, in particolare i costi di produzione, è una leggenda metropolitana di vecchia data che affonda le sue radici nella pratica, che è però ormai in disuso, di utilizzare l'aria propanata al posto del gas naturale. Si optava per questa soluzione perché il gas naturale diversi anni fa era più difficile da distribuire soprattutto nelle zone periferiche. L'aria propanata è una miscela al 50% di gas propano, risultato dei processi di raffinazione del petrolio e di aria e le sue reti di distribuzione oggi sono quasi del tutto scomparse. Secondo quanto raccontato da SGR Luce Gas, che è un'impresa di distribuzione nonché un sito specializzato proprio in fonti energetiche, inserire aria nel gas sarebbe tecnicamente complicato e costoso perché sarebbero necessari grossi compressori. Questa opzione inoltre sarebbe anche molto pericolosa perché una miscela di aria e gas naturale è esplosiva. Oggi da noi in Italia il gas che quotidianamente utilizziamo nelle nostre abitazioni è soprattutto il gas naturale, un combustibile fossile che non viene sottoposto ad alcun processo di raffinazione ed è estratto dal sottosuolo. È sicuramente vero e ce ne possiamo rendere conto cucinando il nostro pranzo e la nostra cena che le fiamme dei fornelli possono assumere colorazioni diverse, ma ciò dipende dalla temperatura e dalla composizione della fiamma. Sul tema infatti sono intervenuti anche i vigili del fuoco che raccontano come il colore blu indichi una temperatura più alta, solitamente superiore ai 1400 gradi Celsius e collegata alla combustione degli atomi di carbonio. Una fiamma più rossa o arancione invece è legata ad una maggiore presenza di ossigeno. Come spiegato poi ancora da SGR, la variazione del colore della fiamma è da ricondurre un po' al processo di miscelazione del metano, che è il principale componente del gas naturale, e dell'ossigeno che avviene sì però solo all'interno del piano cottura. Una miscelazione ottimale dà come risultato una fiamma tendente all'azzurro, ma può capitare che la variazione di colore sia differente per la percentuale di ossigeno presente. Inoltre ricordiamoci anche che il colore della fiamma può variare anche per altri motivi, come ad esempio la pulizia del piano cottura o la presenza di impurità nei fornelli, ad esempio il sale da cucina o tracce di detergenti sono in qualche modo dei nemici del colore della fiamma e possono decisamente influenzarlo. Per oggi da parte miei è tutto, ci sentiamo venerdì prossimo. Facta News è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Scegli a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo, segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social, twitter, facebook e instagram. Ci trovate anche su youtube e abbiamo un numero whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843. Per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di Facta News su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast. Il podcast di Facta News è stato scritto da Camilla Vagnozzi ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Camilla Vagnozzi e questo era veramente il podcast di Facta News.